Musica Buonasera amici di Polposition, Danny Mendez in Polposition con voi questa sera insieme a Incarico Tech. Vado subito a conoscere il ministratore delegato dell'Incarico Tech, Loris Gasparini. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Allora, azienda che si trova a Campo Gagliano in provincia di Modena. Parliamo del settore magazzini verticale automatici. Per noi di Polposition è un onore avervi qua questa sera proprio perché è un argomento molto interessante. Ma parliamo proprio per quello che riguarda la storia, gli inizi di questa azienda. Prego. Beh, volentieri, grazie. Incarico Tech è nata nel 2008. Non si chiamava neanche Incarico Tech perché l'abbiamo fondata io e un imprenditore modenese che è un caro amico Massimo Porrini e volevamo inizialmente dare consulenza logistica alle PMI perché nel settore della logistica industriale avevamo riscontrato questa esigenza. Poi, strada facendo, e diciamo che è qualcosa che era legato a quello che avevo svolto fino a quel momento, abbiamo iniziato una partnership molto importante che ci lega in modo molto stretto tuttora con un'azienda tedesca che è uno dei leader mondiali nella produzione di magazzini verticali automatici e abbiamo cominciato l'avventura di Incarico Tech, tant'è che oggi questo è, dei magazzini verticali automatici, è il nostro core business. Core business. Prodotti e servizi che offrite? Beh, dicevo appunto, magazzini verticali automatici e tutto quello che sostanzialmente ci gira intorno perché i magazzini verticali sono… Ecco, ci faccio un esempio che io ho visto nel vostro sito, però è siccome, diciamo, meglio spiegato da lei un conto… Cerchiamo di essere molto semplici, sostanzialmente diciamo che permettono di recuperare tanto spazio, sono sistemi automatici, a cassetti, sfruttano l'altezza perché l'altezza minima che ha senso di un magazzino verticale di due metri e mezzo, la massima può arrivare anche a 30 metri e quindi sono tutti questi cassetti che vengono movimentati da una navettona centrale e l'operatore digita l'articolo che deve prelevare e si ritrova comodamente a 90 cm d'altezza e il cassetto da cui deve prelevare componenti medi o componenti piccoli. Tutto questo può essere fatto anche senza andare a richiedere nulla ma attraverso delle liste che possono essere ordini di produzione o di vendita che vengono inviate dal sistema centrale. Che meraviglia, meno male che ci siete voi, non più problemi nel raggiungere alcune situazioni, in questo caso magari mi permetta più tecnico nel raggiungere quello che si vuole prendere da questo armadio automatico quasi. Armadio automatico che vorremmo magari tutti avere anche a casa. Sa quante volte ho pensato di metterne uno a casa, coi ventali esternamente? Beh, dovrei dire di sì ma in realtà ancora no, ci sto pensando. Dovrebbe personalizzare per la casa, perché no? Assolutamente. Ma non basta mai a casa. Comunque la cosa importante è davvero un qualche cosa al servizio dell'uomo, non è contro l'uomo perché pensiamo a operai che si arrampicano sugli scaffali, pensiamo alle difficoltà nell'andare a reperire spazio nelle aziende, allarghiamo lo stabilimento, beh, possiamo sfruttare quello che abbiamo e siamo anche un pochino più eco, visto che oggi se ne parla tanto. Clientera di riferimento e per quale motivo io o comunque il pubblico a casa dovrebbe scegliervi? Beh, è molto difficile parlare della clientera di riferimento, perché diciamo che noi offriamo un servizio con dei prodotti e delle soluzioni che possono essere considerate di nicchia, però il bello ma anche il complicato è che davvero è trasversale a tutti i settori merceologici e a tutte le tipologie di impresa. Le faccio un esempio. Noi abbiamo un cliente, che mi dà tanta soddisfazione, che distribuisce componentistica per le aziende di Reggio Emilia. Sono marito, moglie e tre magazzini verticali automatici. Poi abbiamo delle multinazionali che invece fanno un uso molto allargato in tutte le aree, dalle aree di vendita alle aree di produzione, per la manutenzione. Abbiamo ospedali tra i nostri clienti, cliniche private, dentisti, industria farmaceutica. Insomma, è molto complicato andare a ricordarli tutti. Concessionari auto, in questo momento è davvero molto interessante. E noi ce la mettiamo tutta cercando di portare la nostra professionalità ai nostri servizi. In questo caso la sostenibilità, come vengono fatti questi armadi automatici, come si riescono a combinare insieme con la parola sostenibilità? È un argomento a cui teniamo molto in azienda. Lei deve considerare che i materiali sono recuperabili ben oltre il 90%. Esistono sistemi di recupero dell'energia, per cui nel momento in cui ho l'automazione che viene verso il basso, magari con un cassetto carico di materiale, io recupero l'energia e la metto in rete o la rendo disponibile per gli altri magazzini e riduco gli spazi occupati. Quindi davvero meno cemento, meno energia e più sicurezza per gli operatori. Io credo che questo sia un punto importante oggi e domani. Sì, ha detto molto bene. Prima io ovviamente scherzavo, però quanto sia importante la sicurezza sul lavoro. e in questi ultimi tempi insomma ci sono stati ancora dei casi, quindi avere quel tipo di consapevolezza a livello aziendale è molto importante sempre. Tecnologie e innovazioni? Beh, abbiamo già parlato di alcune innovazioni che sono state fatte, una è il recupero dell'energia, diciamo che sono sistemi ormai maturi dal punto di vista proprio della costruzione dei macchinari. Noi abbiamo aggiunto, ed è un'innovazione a mio parere importante, un sistema di gestione che produciamo noi direttamente, software che permette di gestirli al meglio, di integrarli in 4.0 con i sistemi gestionali aziendali e di customizzare la gestione a casa di ogni impresa. Guardi, io mi occupo, dalla fine degli studi di magazzini verticali automatici, e non ho mai visto un'impresa che adotta un sistema di gestione identico all'altra. Tutti hanno, ma non soltanto in Italia, nel mondo proprio, tutti hanno le proprie identità e le proprie esigenze e questo porta davvero a dover avere dei sistemi che mi vanno a sposare a pieno le esigenze del nostro cliente. Un'altra cosa importante che ritengo un'innovazione, vede, oggi un cliente può acquistare da noi un sistema, ma magari ne ha altri in azienda da 10 anni, da 15 anni, oppure ha un'area manuale. Ecco, con questo sistema di gestione io posso gestire e dare all'operatore, che magari in magazzino cambia spesso, la stessa interfaccia su vecchi sistemi, sui nuovi e sulle aree manuali, in modo tale che semplifichiamo veramente la vita delle persone. Quindi diventiamo sempre più efficienti, quindi riusciamo a dare valore aggiunto. Questa può sembrare una cosa banale, ma le assicuro che dal punto di vista tecnologico è complicato lavorarci ad alto livello. Noi ci siamo e ci stiamo riuscendo, abbiamo, credo, vinto la scommessa e siamo molto orgogliosi di questo. Molto, molto, molto bene, interessante proprio perché mi entro veramente in un'altra dimensione quando ne parla. E poi sono curiosa, se in questo stesso ambiente, io faccio una domanda spesso ai miei ospiti, quanto in questo caso, se all'interno della sua azienda ci sono anche delle quote rosa. La nostra è un'azienda, innanzitutto, mi permette di dire una cosa a cui tengo tanto. Sì, quote rosa, noi abbiamo, siamo un 30% di ragazze, ragazze signore, sono una parte, una colonna portante di incaricotec, ma soprattutto la nostra è un'azienda molto giovane. mi mantiene molto giovane, mi mantiene ragazzino e questo ci permette di mantenere lo spirito di una start-up. Qual è lo spirito che voglio mantenere della start-up? La curiosità e l'entusiasmo. Recentemente mi è venuto a trovare un vecchio formatore, non perché sia anziano, ma un formatore che mi seguiva tanti anni fa e ha parlato con la nostra prima linea, sono tutti ragazzi piuttosto giovani e l'ho trovato entusiasta, mi dice, si respira, un ambiente fantastico e tanto entusiasmo. Questa per me è una grande soddisfazione. Per concludere, progetti futuri? Sono tanti i progetti che noi abbiamo per il futuro, cerchiamo di perseguirli uno a uno. Innanzitutto stiamo mettendo in piedi un team che permetta di portare diciamo così a nuovo la tecnologia di vecchi installati, vecchi installati intendo anche sistemi che hanno ormai 20 anni, per poterli gestire, rinnovare e gestire con le tecnologie attuali. Anche questo va nella direzione della sostenibilità, perché devo buttare ciò che posso recuperare e rendere performante. E poi abbiamo in essere un progetto per realizzare alcune macchine speciali che vanno a toccare ambiti di nicchia, come la gestione di materiali molto pesanti in ambienti magari un pochino complicati. Questi sono i due prossimi step che la Incaricotech porterà avanti nel breve, oltre a continuare a investire tantissimo su quella che è la parte diciamo così di comunicazione di tutti quelli che sono i nostri concetti. La ringrazio. Grazie. Grazie a Incaricotech. Loris Gasparini, amministratore delegato appunto della Incaricotech. Grazie per essere stato con noi questa sera. Bene amici, abbiamo concluso anche oggi la nostra puntata. vi do sempre l'appuntamento sempre qui, Pole Position Business24 TV, la TV del lavoro. Grazie per averci seguito. Buonasera amici di Pole Position, Danny Mendez a questa sera in Pole Position con voi insieme a HD Hinterman Diaz. E vado subito a fare una chiacchierata proprio con l'amministratore delegato, buonasera e benvenuto, Enrico Hinterman. Buonasera. Buonasera. Allora, parliamo di un'azienda diciamo, non solo italiana, ma internazionale. Però parliamo un po' di quelli che sono gli arbori, la storia di questa azienda. Sì, questa azienda nasce 12 anni fa e io ho sempre lavorato, ho sempre svolto le mie attività all'interno del settore cartotecnico in un'azienda che era partecipata anche dalla mia famiglia. Questa azienda fu acquisita da un fondo di investimento. Io non mi trovavo più con le politiche, insomma, con l'idea di sviluppo e decisi di fare una cosa da solo, per cui di staccarmi e di fare a Cadint, ma ne diaz. Perché cartotecnico come scelta? Ma cartotecnica è un'attività che era già di famiglia, per cui mio padre faceva questa attività e io ho entrato in un'azienda di famiglia, per cui insomma ho continuato quella che era già una strada, che era già una strada per cui mi interessava al settore e ho deciso di continuare in questa attività. Nel momento in cui mi sono staccato mi sono dedicato un'attività specifica che è proprio quella appunto degli espositori rispetto alla cartotecnica più generica che faceva l'azienda dove ero prima che era multiprodotto. Una domanda personale, che cosa le ha trasmesso il suo padre proprio con questo mestiere? Ma intanto mi ha trasmesso dei valori e questi valori poi li ho applicati oltre che appunto nella vita anche nella mia attività di imprenditore per cui il piacere per questo mestiere che faccio con tanto entusiasmo. Parliamo del core business dell'azienda. Il core business sono materiale promozionale punto vendita per cui espositori in materiale sia cartotecnico che appunto del core business perché più o meno l'80% del nostro fatturato che materiali rigidi e packaging promozionale che è una piccola parte però della nostra attività ma è che lo sviluppo futuro credo proprio che sarà anche in quella direzione. Infatti voi vi definite High Speed Creativity and Sustainable Packaging. Sì, High Speed Creativity perché quando io ho deciso appunto insieme al mio socio Roman Diaz che è presidente e proprietario del gruppo Eurpac di fare HD i due punti sui quali mi sono concentrato erano e sono la creatività per cui dare delle proposte al mercato che fossero quasi presentati come da parte di un'agenzia per quei tempi per esempio era l'abitudine nel settore dare già dei campioni in bianco degli espositori noi invece facevamo delle proposte grafiche quasi fotografiche di tre o quattro soluzioni differenti e velocità perché io venivo in un'azienda molto impostata sull'attività delle macchine per cui sulla programmazione per cui faccio un solo esempio se tu devi dare una risposta di un dato di consegno a un cliente il programma era settimanale per cui c'era molta attesa e quello che abbiamo fatto invece per cui preventivi veloci risposte immediate il programma si cambia per cui cercare di essere veloci sulle risposte da dare al mercato a proposito di mercati mercati dove operate? 80% Italia 20% Europa sempre negli sviluppi futuri visto che i nostri clienti sono europei se non addirittura internazionali negli sviluppi futuri c'è proprio una crescita quanto meno verso l'Europa e i punti di forza secondo lei della vostra azienda quali sono? il punto di forza è quello per me di presentarci di avere la capacità creativa appunto di un'agenzia ma con una conoscenza molto specifica di chi fa produzione per cui di chi sa produrre del prodotto e di tutto quello che sta intorno al prodotto per cui la gestione della supply chain il dialogo con i co-packer che molto spesso poi appunto gli espositori che noi consegniamo per cui una capacità di presentare un prodotto creativo innovativo ma con una conoscenza approfondita da produttore di quello che andiamo a fare filosofia aziendale filosofia aziendale condivisione degli obiettivi rendere le persone che lavorano con me indipendenti io tendo a delegare molto per cui coinvolgere le persone su quelli che sono gli obiettivi creare un team un gruppo di lavoro che è indirizzato verso quello che dobbiamo andare a fare voi avete tantissimi partner a livello internazionale ma nazionali dove proprio sono molto è cambiato molto il packaging questi ultimi 50 anni assolutamente ed è molto importante perché cari amici a casa quando parliamo di packaging veramente si entra in un mondo quindi mi viene in mente certo sia per diversi settori quindi va curato tutto il visual grafica sicuramente per quello che è nostro appunto per gli espositori sul punto vendita è fondamentale l'impatto estetico oggi tutto questo impatto estetico sia che tu ti voglia rivolgere al massimo di gamma che ti voglia rivolgere al mass market di livello inferiore da un punto di vista della comunicazione passa comunque tutto attraverso la lente dell'ecologico del sostenibile per questo è fondamentale cioè oggi non c'è messaggio che venga apprezzato dal consumatore finale ma anche dai nostri clienti per cui che non abbia giustamente un impatto zero su quello che è l'ecologia e la sostenibilità quindi nell'ultimo periodo giustamente ci sono tutta una serie di certificazioni che vanno a certificare appunto che le aziende si stanno muovendo in quella direzione qualsiasi tipo di messaggio passa attraverso al fatto dell'ecostostabilità per cui quando noi progettiamo un espositore a 360 gradi andiamo a vedere la vita di questo espositore come sarà riciclato una volta che non è più utilizzato cercare di rendere i nostri pecc i nostri espositori monomateriale proprio per semplificare questa attività poi lo smaltimento per lo smaltimento per cui oggi l'attenzione è molto su questi aspetti giustamente finalmente e so che durante la pandemia avete sempre lavorato quindi insomma siete stati sempre operativi abbiamo sì sì e per concludere progetti futuri? progetti futuri appunto un'espansione verso il mercato europeo e uno sviluppo verso il packaging di lusso durante la pandemia appunto grande spavento iniziale perché l'Italia chiudeva e il resto d'Europa all'inizio che stava aperto per cui sarebbe stato molto facile cioè i miei clienti utilizzano fornitori europei sarebbe stato molto semplice entrare e prendere anche le mie quote di mercato nel momento in cui abbiamo capito invece potevamo continuare a lavorare abbiamo avuto un piccolo calo nella parte beauty ma ha tenuto molto bene la GDO e il settore farmacia per cui sostanzialmente non abbiamo risentito non abbiamo avuto bisogno di fare casse integrazioni o particolari manovre per superare questo triste e brutto momento io la ringrazio ringrazio Enrico Hinterman l'amministratore delegato di HD Hinterman Diaz grazie per essere stato molto grazie a lei ospite con noi questa sera a Pole Position grazie bene amici vi do l'appuntamento sempre la prossima sempre qui Pole Position buonasera amici di Pole Position vi do il benvenuto e do il benvenuto a RBM More e vado subito a presentarvi Luca Vittuari buonasera benvenuto direttore generale di RBM SPA buonasera allora parliamo del settore comfort già questa parola mi piace comfort climatico a well-being però partiamo dalla storia è iniziato tutto nel 53 è iniziato nel 53 azienda bresciana leader nel settore termosanitario ha sviluppato in tutti questi anni innovazione di prodotti creando quindi sistemi relativi all'idrotermosanitario e quindi relativi anche a quello che sarà Poimor dal 2019 questa nuova unità di business ecco parlando di Moore nel 2019 che cosa scatenato questo nuovo questa nuova start-up poi l'imprenditore nel periodo Covid dove tutti siamo stati reclusi in casa ha pensato e ha vissuto una discomfort una situazione non idilliaca come tutti noi nella propria casa e ha pensato a perché non sviluppare e mettere la persona al centro una soluzione che permettono di creare un comfort climatico dove noi viviamo casa aziende hospitality chi è Moore e che cosa insomma rappresenta a livello di la visione proprio di Moore è molto curioso anche proprio il nome che è stato scelto Moore ha la visione e la volontà di creare una filosofia la filosofia di benessere la persona dovunque essa è deve stare nelle migliori condizioni possibili questo è Moore si parte dalla dallo stato della persona dove dov'è questa persona e si cerca di creare la soluzione migliore per creare il suo benessere parliamo anche di quello che sono i benessere climatico quindi sono unito ai punti di forza che avete all'interno della vostra azienda tra cui la customizzazione di questi impianti che è qualcosa quasi a filiera completa me lo spieghi lei meglio allora prima di tutto proviamo a definire cos'è il benessere il benessere è il controllo di alcuni parametri temperatura umidità qualità dell'aria è fondamentale dove viviamo per ottenere questo nelle migliori condizioni possibili dobbiamo a seconda della casa a seconda dell'abitudine delle persone creare un sistema che si adatti e si customizzi a seconda di quello che ci troviamo davanti quindi è una progettazione quindi non è un sistema plug and play c'è dietro una progettazione che riguarda la casa e l'abitudine e il posto dove vive una persona quindi questo per garantire il massimo comfort i mercati avete un mercato molto importante internazionale e non solo dipendenti 250 dipendenti compreso la more e altri punti di forza i punti di forza di more di more è sfruttare prima di tutto lo skill di 70 anni di storia di LBM e portarli a una realizzazione di sistemi complessi sistemi e servizi perché oltre la customizzazione quindi riusciamo a rendere il miglior confort climatico possibile per la persona mettendo la persona al centro ma creando anche un servizio a 360 gradi che va dalla progettazione quindi ci affianchiamo ai progettisti perché va progettato e pensato prima di cambiare di fare una nuova casa o di cambiare la propria casa è un sistema che non si vede e quindi il punto di forza è seguire tutti i professionisti dall'inizio alla fine fino ad arrivare al collaudo questo garantisce qualità affidabilità del prodotto e una sicurezza per tutti gli interlocutori è fondamentale si parte dalla progettazione come dicevamo è fondamentale che uno dei obiettivi di Moore è aiutare architetti intero designer a disegnare un sistema che non si vede che fa scomparire oggetti che si trovano all'interno di una casa termosifoni con tecnologie brevettate soluzioni brevettate dove rendono al meglio sia dal punto di vista di design estetico sia di comfort quindi un abbinamento fondamentale per per l'utente finale che vuole vivere la propria casa per concludere progetti futuri progetti futuri riguardano uno sviluppo prodotti grossi investimenti in ricerca e sviluppo crescita come dicevamo anche all'estero abbiamo uno showroom a Milano in via Sulferino esperienziale dove facciamo vivere l'esperienza di di cosa significa comfort climatico perché more è trasmettere una filosofia per scegliere tu devi conoscere devi conoscere devi testare devi testare una volta che lo conosci puoi dire lo voglio nella mia casa certo e quindi questa è showroom esperienziali ci saranno in Belgio in Francia dove abbiamo delle subsidiary entro fine 2023 inizio 2024 quindi grossi sviluppi sia dal punto di vista di ricerca e sviluppo marketing e commerciali all'estero io la ringrazio ringrazio appunto Luca Vittuari direttore generale della Riem SPA e in questo caso Riem Moore che mi piace e grazie per averci beniziato e sicuramente fatto capire quanto sia l'importanza del comfort climatico il well being grazie grazie a voi buonasera grazie amici per averci seguito anche questa sera vi do l'appuntamento alla prossima sempre qui canale 410 e teni Grazie a tutti